Direttore Andrea Luperini, è appena finita Pietra Santa Castelfiorentino che è stata sospesa per pioggia. Pietra Santa che pareggia, una vittoria importante a Pesce, si sale a più 9. Si sale a più 9 e questo può fare solo che piacere, discapito logicamente di Pietra Santa che ha pareggiato ma a noi interessava la nostra partita su un campo che alla fine era ai limiti della praticabilità con una squadra che sicuramente, come è stata allestita ora e soprattutto, non avrà sicuramente problemi a salvarsi. È una squadra importante, con dei nomi importanti, basti pensare a dove è arrivata l'anno scorso e a quasi lo stesso organico. Per noi oggi è una trasferta molto difficile, visto il campo, visto le condizioni climatiche e anche le diverse assenze che ci potevano condannare a qualcosa di... invece sono stati bravi, bravi, bravi veramente a gestire la partita a recuperare uno svantaggio dopo tre minuti, non è facile, questo è il sintomo di forza, di coraggio, di voglia di vincere e di arrivare ad un obiettivo. Ecco, ultime sei partite in campionato, sei vittorie, se ci aggiungiamo anche la finale di Coppa, sono sette partite, sette vittorie e 75 partite senza sconfitte, numeri da capogiro. Sì, ma i numeri alla fine, quelli che contano sono quelli per arrivare alla fine del campionato e raggiungere un obiettivo. È logico che fa tutto piacere, fa piacere l'imbattibilità, fa piacere tante cose, ma arrivare ad un obiettivo penso che sia la cosa più importante che questa società. Penso che si meriti dopo, diciamo, i problemi passati in passato e adesso, insomma, siamo lì a goderci questo momento e speriamo quanto prima di arrivare a una conclusione stellare. Ecco, oggi poteva essere una partita insidiosa, mancavano tre pedine importanti, Granito, Barzotti e Balleri sono giocatori difficili da regalare agli avversari. Sì, sono difficili perché sono tre pedine importanti, è logico, però chi ha sostituito questi ragazzi ha fatto vedere di che passo è fatto, soprattutto i giovani. Non ci scordiamo che oggi avevamo la linea difensiva tranne che Fiale con tre giocatori in quota, 3,94 e un 95 e quindi, insomma, penso che alla fine, come tutti dicano, una grande corazzata, che è vero perché alla fine siamo un'ottima squadra, ma oggi abbiamo giocato contro un pesce che era agguerrito, aveva tutti i giocatori disponibili alla fine, tranne che i due squalificati, ma abbiamo giocato con i giovani e questo significa che è la forza del gruppo, dell'organico, che il mister li sa coccolare bene durante la settimana e quando li mette in campo non possono fare altro che dare il meglio come hanno dato il meglio oggi.